Oh yeah, buonasera, Night Onetv da... dove siamo? Re... Re? Revigliasco? Revigliasco, a un minuto da Torino, con tutto il blocco torinese tranne Pasteris che... insomma, niente, dove è arrivare o non è arrivato stiamo tentando di andare in diretta, non ce la faremo mai perché il colore della lucina è blu e non... il blu non è il colore che fa per noi, onestamente quindi io eviterei salvo, ho levato il player adesso e mi stacco Vi fate le foto a vicenda così voi? Sì Anche vestiti Oggi vestiti, ma per tu che vuoi togliere qualcosa? Io c'ho anche la giacca Grazie